Gruppo mamma e buongiorno, vi informo che l'incontro che avevamo dopodomani con i professori l'ho spostato a domani alle ore 15 Eh scusa bella, da quando ti hanno letto presidente del mondo? Ho un impegno che non posso assolutamente risdire Però scusi, ma non ne possiamo a quell'ora signora Loredana? Non mi interessa Nah, ma lo questo è scema veramente Uè, Pizze Taylor, ma come ti permetti? Ho detto che non mi interessa Eh ma se Loredana ha un impegno veniamo l'incontro, no? Ma io le vengo incontro, ma con un autotreno Ascoltami, Samantha De Bignè Nah, Samantha De Bignè mi ha chiamato E non è un complemento? Se hai qualcosa da dirmi in faccia vediamoci all'uscita dalla scuola senza problemi E certo che vengo, aspettami Maria, attenzione No, no, non ne voglio sapere niente, tu lo dili che mi blocchi, eh? Marifa, attenzione La Scanno, guarda, quanto è vero di oggi mi faccio arrestare Marifa, attenzione ti sto dicendo Ma che cosa? Attenzione che sono le 12 e mezza e ancora non hai messo l'acqua e la pace, c'ho fatto Ma, fammi Dove stai? Dove stai? Allora? Que, orzo, dopo che sei mangiato mascia Mi volevi dire qualche cosa? Signora, per favore, state calme Ma che cosa sta succedendo? Ascoltami, Sabrina Salerno e provincia Io aspetto te Ma non è che è morto la Cristiano, ma non è che Vieni Vai, lascia stare la signora Non ti prego, fai qualcosa, non tu? Non ti preoccupare, ma ci penso io Grazie Allora, forza, venti euro sulla signora Maria Vincenzo sulla Redana Forza, salta la mano, dai Ma ne detto, datemi qualche cosa Datemi qualche... Vieni qua, tu vieni No, 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 no Vieni qua Affanculo Mannaggia Come si aprono queste? È aperto Io non ho capito se sei mia moglie o la signora Loredana Però se come ciò fai, per favore, no Aprimi sta banana